Aria di tempesta in Forza Italia, là l'Alleanza Liberal Popolare Autonomie e Gruppo Parlamentare nato da Denis Verdini e su cui inizialmente pochi credevano è riuscito a strappargli Pino Galati, zoccolo duro del partito e pare che la mossa del parlamentare Lametino possa avere già a breve i suoi vantaggi visto che attesa in questi giorni la sua probabile nomina sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega per il Sud. Per gli azzurri calabresi la terra sotto i piedi non è più stabile e a breve potrebbero avvenire altre perdite. Tra coloro che sarebbero interessati ad abbandonare FI ci sarebbe anche il consigliere regionale Ennio Morrone. Intanto nel Consiglio Comunale di Lamezia l'essodo è stato di massa. Il partito più votato nelle recenti elezioni amministrative, il primo e più forte sostegno al sindaco Paolo Mascaro lascia di fatto Silvio Berlusconi. Tra gli scranni delle assise rimane solitari a portare la bandiera degli azzurri solamente Carolina Caruso. Formano invece un nuovo gruppo a sostegno dell'Ala e che si chiamerà Calabria al Centro, l'ormai ex capogruppo di FI Salvatore De Biase, Tranquillo Paradiso Luigi Muraca e il presidente del Consiglio Comunale Francesco De Sarro. E Calabria al Centro raccoglie anche l'adesione di un membro dell'opposizione, cioè Francesco Rubberto. Una sorta di asso raccogli tutto il caso Lametino. Resta ora da vedere se la cosa si replicherà a livello regionale.